Si sono chiusi sabato scorso in Gondrada Priolo a Favara i festeggiamenti in onore della Sacra Famiglia, appuntamenti chiusi nel segno della fede e della tradizione popolare con la Santa Messa celebrata da Don Lorenz e la minestra preparata dagli uomini della Gondrada. I festeggiamenti, promossi dagli abitanti e giunti alla terza edizione, hanno offerto ai numerosi visitatori momenti di riflessione e convivialità. Particolarmente gradita dai presenti, la tradizionale minestra preparata all'aperto. I ingredienti sono quelli tradizionali, quante verdure, quanti legumi, quanta pasta e soprattutto per quante persone? Allora, come quantità, come legumi abbiamo messo 40 kg di legumi, tra favi, ceci, lenticchie, niente. Poi come verdure invece abbiamo messo cavoli, cipolle, cadotte, sedano, le solite cose che si usano per la minestra. Come persone abbiamo previsto all'incirca sui 700-200 persone. Per il terzo anno consecutivo abbiamo fatto la festa della Sacra Famiglia. Quest'anno il simulacro della Sacra Famiglia della Fioreggia del Priolo è stato itinerante, nel senso che lo abbiamo portato in processione lungo le strade, i viottoli della Contrada, nelle famiglie che lo hanno ospitato. Ormai è una consuetudine, è un piacere per tutti gli abitanti della Contrada riunirsi in questi giorni di fine estate e stare insieme, in fraternità, in comunione.